La ricognizione delle reliquie di un santo è un'occasione unica per gli antropologi perché ci troviamo in un contesto diverso rispetto a quello in cui l'antropologo lavora di solito su uno scavo archeologico in cui dobbiamo trovare le informazioni su chi era la persona che studiamo, qui già sappiamo chi è, le fonti storiche ci aiutano in questo caso, però le ossa in questo caso si dicono qualcosa di diverso, ci permettono di sperimentare la bontà dei metodi antropologici quindi di verificarli e poi un'altra cosa importante in queste ricognizioni è poter usare tecniche che in contesti magari di scavo archeologico non sempre si riescono a praticare, ad esempio qui con lo studio di sante obaldo riusciamo a studiare il dna di questo santo proprio perché le condizioni di conservazioni delle ossa che erano messe in un'urna sono apparentemente buone quindi ci aspettiamo anche un dna ben leggibile che ci dia le informazioni sulla provenienza e su eventuali malattie quindi veramente un'occasione unica di lavoro da questo punto di vista è un sempre un lavoro multidisciplinare in cui l'antropologo svolge un ruolo ma non è l'unico intervengono varie persone perché appunto non solo lo studio macroscopico che è quello che di solito è di pertinenza dell'antropologo viene operato ma vengono fatti studi particolari appunto dobbiamo estrarre il dna e contemporaneamente nell'estrazione del dna facendo dei carotaggi delle sezioni arriveremo anche a capire se l'osso effettivamente è in buono stato di conservazione come appare esteriormente intervengono appunto anche esperti di medicina di paleopatologia perché anche su santo sante obaldo abbiamo notizie forse di una malattia che l'ha uccisa e la lebra ma arrivere proprio la collaborazione con varie figure ci permette di avere un quadro completo e un'ultima cosa importante qui legata al tipo di richiesta che ci viene fatta per la popolazione dei fedeli riusciremo a dare un volto un viso come abbiamo già fatto con sant'antonio e con san valentino dopo la ricognizione dei resti osteologici i resti del santo sono stati analizzati attraverso le tecniche di analisi antropologica ed è emerso che si tratta di un individuo di sesso maschile di età compresa tra i 30 e i 35 anni e questo conferma quindi i dati storici legati insomma alla figura del santo per prima cosa sono stati avvenuto il campionamento sia della rocca petrosa quindi la porzione interna del del meato acustico che insomma contiene tutti gli organi uditivi e delle radici del dente questi campioni sono molto importanti per quanto riguarda l'analisi del dna che verrà poi eseguito successivamente in modo tale anche da poter confermare l'eventuale presenza del mycobacterio responsabile in questo caso della morte del santo come insomma la storia riporta il mycobacterio in questione il mycobacterium lepre responsabile della malattia quale chiamata lebra per confermare quindi la morte per la insomma la presenza della malattia non soltanto si può ottenere attraverso l'analisi del dna del quindi per confermare la presenza o meno del mycobacterio ma è anche possibile constatarlo e attestarlo attraverso l'analisi antropologica e quindi paleopatologica dei resti osteologici e in questo caso sono stati sono stati riscontrati alcuni segni che probabilmente sono riconducibili alla malattia e che valuteremo poi in maniera successiva invece per determinarne in maniera più certa grazie 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 grazie